sul sul amici bentornati o benvenuti nel mio canale io sono adanai e oggi siamo insieme per uno speedcast un po molto particolare intanto sotto lo starete già vedendo dedicato a game of throne il famosissimo telefilm che ha avuto un successo enorme in tutto il mondo praticamente cioè il trono di spade in italiano abbiamo deciso io e jenys simer con cui collaboro in questo video di ricreare quattro personaggi di questa fortunatissima e bellissima serie tv io ho recreato daenerys targaryen e sansa stark mentre lei ha ricreato jones no e caldo rogo scusate solo a menzionare jones no e caldo rogo mi ha appena presa una pampata sono un pelino belloci comunque a parte quello come potrete notare tanto sono partita daenerys mi piace tantissimo è stata la mia preferita non dico niente sul proseguo della storia e come ho cambiato idea su di lei se sì o se no perché altrimenti spoiler e non lo voglio fare comunque daenerys era uno dei miei personaggi preferiti l'ho veramente adorata e ho deciso di ricrearla ricreare sansa al contrario è stato molto complicato infatti come potrete notare ahimè non è stato proprio un successo anzi credo che vada ritenuto un semifallimento ahimè non sansa mi è rimasta davvero difficile da copiare mettiamola così e per riportarla in versione sim aveva delle a delineamenti sansa un po particolari soprattutto in alcune foto sembrava in un modo in altre sembravano gli occhi in un altro mi ha un po confuso e fate risultato ragazzi non è sicuramente dei migliori comunque io mi auguro che vi piacciano entrambe sia daenerys che sansa daenerys secondo me è uscita meglio mi auguro che vi piacciano se per caso vi dovesse interessare averle nel vostro game nel nostro gioco potete scrivermelo e ve le posso girare completere i cc perché come ovviamente starete notando in questo momento sono piene zeppe di cc materiale personalizzato e io mi auguro che questo video vi piaccia se è così lasciatemi un like e un commento qua sotto per dirmi cosa ne pensate vi invito ovviamente ad andare a vedere la creazione di Jo Snow e Calbrogo che realizza la bravissima Janice Simmer iscrivetevi anche al suo canale se non l'avete già fatto perché è veramente molto brava e so che lei ha un progetto molto ambizioso e molto bello io non vedo l'ora che lei porti sul canale quindi io resto in attesa fremente di vedere il suo progetto di cui ovviamente non vi voglio parlare più di tanto perché compito suo e non voglio prendermi io certi onori però vi dico intanto iscrivetevi e mettetevi per l'avanti per quando lei porterà questo fantastico progetto comunque già attualmente lei carica molti video di speedcast e sono molto carini oppure mi cover ha un tipo mi coverizzato molti personaggi di realm of magic e gli sono venuti molto bene quindi iscrivetevi seguitela perché è bravissima e soprattutto non potete perdervi la creazione di quei due gran pezzi di uomini di Jon Snow e di Khal Drogo scusatemi se è poco vi invito anche già che ci sono a iscrivervi al mio canale se per caso ancora non l'aveste fatto io vi mando un grosso bacio e vi lascio al video Suf sul Grazie a tutti 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 Grazie a tutti